Qui sono per voi, parli spagnoli. Parli con lui. Fede, parli spagnoli tu. Io so dire le cose che dice la tata. Anche io. La comida. Poi quando i bambini litigano che vogliono una cosa in due si dice para los dos, per tutti e due. Qui lo facciamo para todos. Cioè stai facendo un provino per diventare la sua tata? No, no, io no.